ma buongiorno anzi buonasera data l'ora data l'ora buonasera buonasera 10 25 no tutto posso tutto posso niente in ordine vediamo un attimo se si sente il twitch funziona ma per me no vediamo 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 altro cosa sta succedendo con pokemon non si sa stanno trasmettendo numeri addirittura vediamo se funziona 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 tutto a posto intanto fatemi sistemare un attimo la webcam perché mi sa che è un po ok vediamo molto molto meglio più o meno più o meno più o meno ragazzi come vedete oggi siamo su super mario 3d o ma com'è come non puoi farmi questo scarica quanto ci mette non puoi farmi questo ma solo non è aggiornato fino adesso 4 minuti 4 minuti va bene tanto ragazzi aspettiamo così che arrivi alla gente vediamo un po questi 4 minuti con il computer che parte verso nuovi orizzonti chissà dove partirà questo computer 4 minuti ancora al 25 ragazzi mamma mia che pesantezza ce la farà il nostro eroe ragazzi ce la faremo non preoccupatevi mancano due minuti mancano due minuti ce la facciamo ragazzi ce la facciamo ce la facciamo manca un minuto e siamo sopra manca un minuto e siamo sopra manca un minuto manca un minuto tanto non avevo acceso il tabalette dai ormai ci siamo tanto spero che non si senta sottone no l'audio di Joe probabilmente si sentirà perché come vi ho detto già negli altri live non so minimamente come fare a sentire l'audio senza le cuffie non posso attaccarle alla T e V però forse e no la switch uguale dovrei trovare un modo per fare una doppia uscita diciamo ma boh non so comunque si parte Super Mario 3D World Plus o più Bowser Fury nuova uscita targata a Nintendo che Nintendo Italia ci ha gentilmente mandato e siamo veramente grati a Nintendo per questo regalo se così vogliamo chiamarlo proprio inaspettato perché raramente capita che Nintendo ci mandi ci mandi titoli però grazie mille Nintendo in ogni caso ok qua sono solo io quindi parteciperò io da solo con Mario con Mario qui dove partecipa quante ne devono partecipare 20.000 no ok fuochi d'artificio così subito d'amblè parla del classico castello di Peach che c'è in ogni Mario tanto aspettando un secondo che qua devono cercare beh serial gamer che non c'è sta eh 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 che succede? ok il tubo d'artificità a quanto pare uh e questo? ok ah questa ci dice che le sue sorelle o barra amiche sono state rinchiuse oh è Bowser ahia Bowser arrabbiatissimo quanto pare è rinchiuso pure lei vabbè eh va bene va bene ragazzi ok tutti che vanno giù nel tubo va bene va bene va bene e così ok parte la ricerca ok aiuto 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 ok benissimo ok saltare classico gioco online gioco in locale no io voglio giocare in locale ok ah ok proprio amondi ok così va bene con le super campanella tra l'altro è un gioco molto improntato sulla cop mi sembra quindi spesso cioè se si riuscite a giocare con degli amici è veramente una grande cosa ok qua posso saltare cosa posso fare no non ho idea di cosa sto facendo con no perché non si va più poi ma so non posso non so aspettate un secondo ok no ma perché hai rimasto il puntatore ragazzi ma che cacchio ok si è ripreso si è ripreso una campanella addirittura ok va bene va bene così tanto qua io voglio esplorarmelo tutto ok qua siamo sulle mura un po' attack on titans diciamo proseguo madonna mia si è rotto Mario un'altra campanella ok noi prendiamo tutto ah ok con questo posso anche attaccare fantastico facciamo così e sping ottimo oh 4000 dollari mandato bene questo ok ok ah no ma qua mi aggrappo solo perfetto perfetto ok qua non si può più andare avanti e allora che fa ma andiamo avanti di qua ok too good ragazzi too good too good too good perfetto si vola giù e eccoci qui intanto ah questo è checkpoint a me ragazzi non mi ricordo molto di di Mario quindi devo riprenderci la mano qua invece ah traguardo ah questi sono tipo punti di osservazione va bene va bene mi gusta questo piattaforma con dei soldi gratis ah c'è anche il tempo tra l'altro non me ne ho manco accorto mille va benissimo qua forse ci butta sopra ah no oh un segreto 4.000 mi va bene mi vanno bene mi vanno bene uh questo lo scelta qui ah addirittura e questo ah ok va bene comunque sono i collezionabili classici le stelline di Mario ok poi la oh la madonna che succede d'accordo ragazzi d'accordo non so cosa sia successo ma va bene ah ecco il sedito è trasformato ok infatti abbiamo anche ancora una stelletta una stelletta ragazzi una stelletta vediamo se riusciamo a portarcela a casa ok qua non c'è più l'interpiglia oh mamma mia stavo per cadere per sempre aspetta eeeh volevi ah guarda guarda c'era proprio è proprio l'infamata ragazzi eh ma l'ho scoperta subito spiagge ah qua invece posso spendere tutti e spin e spin e spin e spam e spin ottimo 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 ok eh one up fantastic le fantastic ragazzi le fantastic ok oh qua c'è tanta roba da fare guarda qui allora questo probabilmente ci manda qua ok ma ci manca ancora no 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 aspetta 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 e no mi manca ancora ragazzi una stella e non va bene non va bene ragazzi non c'è una stelletta però mannaggia probabilmente dovevo prenderla con col mario gigante però non l'ho vista vabbè ragazzi cioè facciamo andare bene così una stelletta la troveremo la troveremo no problem un livello completato due stellette sullette due stellette su tre ok va bene ah d'accordo ok qua prendo la monetina qua prendo il salto ma non posso non posso ne attaccare qui non posso fare nulla penso che un cavolo ah qua ci sono altre stellette nuovo livello si vola mondo 1.2 grotta di cupa di cupa ok adesso ragazzi puntiamo a prenderci mannaggia sbaglio sempre i tasti oh ma li ho tolto ok aspetta aspetta vediamo se lo riesco a fare così no non c'è nulla di che tra l'altro bisogna stare attenti che rischio di cadere ZL anche se ho provato ZR ma va bene così ok si vola di qui oh questo penso sia ma no ma dai mannaggia ok vediamo se riesco a prenderli tutti ah e questi come faccio a spigliarli come faccio ah hai capito eh beh mannaggia hai capito sta cosa oh guarda te bella ma dai ma sono un babbo si ragazzi lo so sono un babbo ma non mi ha mai preso ma non mi ha mai preso ragazzi mamma mia morire con sti cosi qui ma beh che ci devo prendere la mano però oh ma poi non si riesce a capire quando salto bene quando salto mano ok no è ricomparso mannaggia è ricomparso ragazzi se giocate a Super Mario questo Super Mario fa ok ricordatevi non preme mai ZL perché sennò siete finiti ok aspettiamo ok no ma che fa ho ciccato amaramente ah meno male meno male ok allora mettiamoci in mezzo no ok perfetto perfetto ok così si fa tranquillamente ok avanziamo di qua a me ragazzi oh non riesco vi giuro che non riesco proprio a oh ma cosa fa questo Koopa e spin come uno ok due tre ottimo ottimo questo sarei meritata ragazzi allora di qua non si va avanti no aspetta 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 andiamo oh e che palle infatti mi sa che ho ancora un po' di drift sul sul sinistro eh eh si ragazzi ancora un po' di drift vai vai monetine come se non ci fossero domani one up quella la vita che ho perso prima tra l'altro tra l'altro ragazzi tra l'altro quella ok uh stelletta stelletta ma non mi rompere va aspetta ok ce la faremo ragazzi a saltare dritti in questo gioco perché mi sa tanto di no ok ah più cento di tempo ma c'è qualcosa qua o no no non sembrerebbe e allora rompo tutto rompo tutto ragazzi rompo tutto ancora ma basta sono un babbo lo so lo so madonna mia ragazzi ma che numero patto ok questo un cubo cosa fare ok va bene non ho ben capito cosa io abbia fatto ma d'accordo va bene così oh e questi piccolissimi dei piccolissimi cumpa di quartiere mi spiace eh ah io vado giù di qua che c'era ok fantastics ok va bene troppo forte ragazzi troppo forte ormai addomessichiamo tutti no 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 ok perfetto ok fantastico qua sopra invece ah ci stava il magheggione guarda qua il magheggione eh vabbè io non ve lo farei di nuovo va bene ok questo è il tassello sembrerebbe un tassello che ci manca ogni volta ok salve come la va oh mamma mia questi ok ah qua ho preso tre stelle in facilità in in scioltezza mentre in quello prima invece ho faticato cioè non ho trovato l'ultima più che altro l'altro che ho faticato ok io prendo tutto quello che c'è da pigliare brucio tutti i fiori cavolo brucio i fiori qua c'è qualcosa no qua c'è la bandiera ah è già finito il livello fantastix ah guarda può correre anche così eh quella salve yay per effetto per effetto ragazzi perfetto intanto qua nessuno mi iscrive ok mi sembra più che ottimo una monetina punteggio 52.450 che alla fine sembra ottimo tre streglie la casa del fungo questo mini boss vediamo la casa del fungo cosa cosa ci porta ah questa è la casa di toad scegli il poco più pesci e vediamo cosa salterà fuori beh ovviamente se non c'è quello più grande 1000 capin niente di che ragazzi è stato pressoché inutile però tra l'altro fatemi controllare una cosa si sembra che vada tutto bene quindi senza pensieri ah questo è una stella perché è un mini boss a quanto pare duello con i clac io gli spammo ah tutto qua pensavo sia un po' più difficile ma va bene va bene ragazzi ce li ho spammato le pallette quindi very good 16500 wonderful cioè non ho fatto niente di che ma va bene una stella gratis praticamente ok ah era per raggiungere il ponte a un nuovo livello fantastico eh proseguiamo che dobbia fare che dobbia fare cima montagnosa attenzione quella bello però ragazzi devo dire che c'è super mario passano gli anni ma sempre il livello rimane altissimo sembra davvero cioè sembra davvero bello sembra ringrazio ancora nintendo che ci ha mandato questo giuego un po' no però ok ok gsm gsm campanellina ah no no vabbè ok no problem uè 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 è questo un fungo no no ok perfetto 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 oh lì no madonna i miei ragazzi madonna vediamo oh questo è qui quindi cosa devo fare ok va bene è stato più semplice del previsto perfetto perfetto e anche questo possiamo portare a casa bene qua invece il timbro ci pigliamo oh ho detto che il timbro ce lo pigliamo no no ragazzi non mi ha fatto prendere il timbro ma che succede ok tutto tutto bene tutto bene tutto bene tutto bene fantastico bene 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 inizio che codata matomica che gli ho tirato questo qua io guardo guarda cosa faccia aspetta 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 un'altra campanella sì madonna no 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 sì vabbè vabbè ragazzi però i salti sono spropositati in questo gioco eh vabbè ricominciamo da capo non mi sia molto giusto ma va bene così vabbè io ora non ci posso far nulla perso più vite qui che in tutti gli altri livelli del mondo ma perché ragazzi si capisce qualcosa alla profondità quando salti veramente impossibile guarda guarda ok mannaggia che seccatura aver perso due vite così proprio inutilmente ma però me ne posso recuperare una almeno ok ah ma mi devo rifare ah no mi devo rifare tutto vediamo vediamo eh a quanto pare penso di sì eh no però la stella me la contetta vabbè ragazzi li facciamo non si sa mai ma qua dove di meno che infamata è oh ah no vedete qua ok non me la ponte va bene va bene era meglio essere sicuri ragazzi ma immetti che non me la prende ok anche quello vabbè lo riprendiamo oh mamma mia so stupido però eh ok guarda gli faccio un altro pov pov perfetto aspetta eh che qua ok ma mi sei stato tutto inutile tra l'altro un altro pov io lo faccio ah gli ho fatto un pov incredibile ok ma posso passare attraverso sì perfect ok ok tra l'altro penso che sia meglio giocarlo in dock perché boh mi da più l'impressione di che si capisca meglio il tutto attenzione qua che non voglio finire ok quindi adesso vedo qua ah salgo sopra giustamente questa nuvola speedy wow ragazzi mi ha buttato nel non so nel super spazio per spazio incredibile spazio si vola si vola si vola si vola wonderful 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 ah tutto per una stella una stella ragazzi che ci dà ci dà morale ci dà morale vediamo cosa c'è anche lì qua cazzo ok ma tra l'altro ragazzi non ho preso la prima stella madonna mia ragazzi il 3d è importante in questo gioco che devo fa vediamo un po' ah niente ok no ma quindi ho cercato di nuovo la prima stella oh ragazzi dei problemi con con recuperare le prime stelle vediamo se magari qua la troviamo anche se è la prima ma in teoria bravo mario no comunque ragazzi la prima stella e vabbè ce la ce la recupereremo spingo derve bello bello di sicuro quello in video bello sicuro il resto beh si potrebbe essere bello ma beh infatti ovviamente non parli di mario vorrei anche vedere non so con lo spettacolo così guarda cambio pure colore divento rosso bianco blu cioè più bello di così non so adesso sono rosso adesso sono bianco meglio di così non si può intanto ci siamo già appappati due due stelle che mi farò off screen ma proprio collegati con i tuoi amici per giocare insieme a loro no non lo farò poi collegati online o con le altre console vabbè online magari ci giocherò ovviamente per la recensione però no adesso sinceramente in oh guarda c'è anche capitano todd vediamo cosa ci dice capitano todd 5 stelle oh ma no ma non pensavo fosse un mondo ma pensavo fosse ma no è ah è come capitano todd ragazzi come gioco capisce capitano todd intorno rapido cacciatore di sole verdi è pronto per una nuova avventura guida alla ricerca delle 5 stelle presenti questo livello se riesce a raccogliere tutte e 5 saranno 2 beh puoi cambiare bisogno di gioco usando r o a e ricorda capitano todd non sa saltare non me lo ricorderò mai ragazzi proverò a saltare ogni volta guardalo guardalo che non riesce a saltare va bene allora e una l'abbiamo già trovata c'è che potrebbe anche occorrere un po' di più capitano todd però a 2 l'abbiamo già trovate non ce la faccio mamma mia guardala lì 3 l'abbiamo già trovate ma questo viene giù no come faccio io allora ah ah ecco là c'è un bus c'è un bus qui e io passo tranquillo vabbè ragazzi questo è abbastanza semplice no problemo no problemo guarda qua 5 stelle skill preciso it's a me todd wow tanto c'è eno arrabbiatissimo cosa succede pepere di fantasia ok vabbè 5 stelle anche qui abbastanza regalate diciamo quando giochi in moneta per un giocatore potrà cambiare il visuale utilizzando R o o A anche negli altri livelli va benissimo va benissimo fai una prova guarda qua cambio la visuale come mi pare piace va bene ok anche qua 3 stelle ci aspettano interruttori a go go wow allora oh il drift ragazzi il drift manna guarda ragazzi il drift oh ragazzi sto drift però manna si però adesso è comparso il drift fino adesso non ho avuto problemi di sorta e adesso è comparso il drift non so ragazzi qua guarda se va da solo non andare da solo per favore non andare da solo ok un fungo e questo io qua ah questo mi serve per saltare perfetto 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 olè e hop là sono proprio un gine del male oh buono ok riesco comunque a cercare tutti i cubi che ci sono vediamo scatola magica ah no questo era per andare avanti no non voglio vabbè ragazzi mi suicido mi suicido oddio ah che ne so ragazzi io vedo una scatola magica mi ci infilo ah ragazzi devo riprovare tutto ok 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 adesso ci si diverte perfetto perfetto guarda qua come gli spammo adesso alle apine qua aiuto e spin e spin e spin ma mai per un pelo tra l'altro stavo per rischia ok prima ragazzi pensavo che si andasse avanti di sopra quindi mi sono buttato a capopitto nella scatola magica ok ah ma qui vedo che siamo alla palestra di di pokemon non mi ricordo come si chiama ma no pure pure quello biliardo li prendo ma ragazzi ho sbagliato tutto però farò un magheggio guarda chiacchio me ne frega me che sbaglio ragazzi io faccio i magheggi guarda qua preci magheggiare magheggio sempre sempre consentito ok oh questo che l'è no non puoi farmi queste cosa a tempo sicuro oh ah tutto ciò per un fiore no qua non farò lo stesso errore però eh a quanto pare si farò lo stesso errore vediamo ah dieci o dieci nove o come vi permettete no sei cinque quattro tre due uno oh no no finito 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 ma no ma no ragazzi ma no mi butto non avevo manco vista la stelletta in in alto a sinistra cavolo sì sì comunque oh è comparso il drift adesso eh adesso ma devo rifarmi pure questa cosa l'ho presa di nuovo male mannaggia ok ok fantastico e in che dire come sono riuscito a prendere male due volte su due eh prove vabbè alla fine visto che hanno messo delle cose mi posso saltare spiagge eh qua devo riprendere questo rifarmi le monetine perfetto eh però questa volta so dove spiagge vabbè ma fammi 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 prendere tutto no mannaggia come siete poi non ci provare nemmeno va guarda hopla ah beh ma basta saltarci sopra ragazzi non cioè alla fine non ci sono problemi non ci sono problemi ragazzi vabbè pensavo invece che devi proprio passarci invece vabbè ci salto sopra guarda qua tac mamma mia sbamboy's on fire ma i sbamboy's on fire a me ho dei problemi con il tradizzo gioco e non ci vedo scusami vabbè ok preso tutto stavolta mi confermate sì posso saltare così ah ma posso la bandiera la bandiera possiamo partire all'arembaggio all'arembio ok 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 punteggio 33.000 onestissimi ah abbia sbloccato penso che sia quello non so il primo vero boss allora facciamo questi due livelli e poi e poi e poi chiamavastri sì mondo 1-4 rapide di plessi o plessie le plessi ma chi sei procedi verso il traguardo ingroppo a plessi a plessi glas accelera rallente girando l o perché la r non ha la r sopra oh vabbè premi b per saltare se stai giocando impiamente eseguite i stessi comandi quando volete potete affrontare i migliori cubi e saltare più alto da correre va bene va bene madonna mia ragazzi è ingestibile no 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 oh wait wait ok eh no dai ma non fare così plexi mannaggia aspettemi mi faccio scoppare ma scusami ma mannaggia ho fatto cicchiare una stelletta già mannaggia plessi guarda lì c'è guarda non posso morire ok ok one up sì ma che tristezza posso scegliere tra due cose ma vabbè vai plexi oh il timbro sì ma c'è il timbro e la stella no però la stella normale quella dell'invincibilità eh no mi piace aver saltato la prima stella verde opla oh lì c'è un'altra stella ragazzi attenti carini piccolosi perfetto una stelletta presa almeno grazie plexi sei un grande plex zl e si vuole ah non ho ciccato più di una stella non ho ciccato ben due d'accordo a parte che non ha saltato qui va ha saltato dopo ma va bene va bene va bene mi sembra più che ottimo anche se abbiamo saltato altre due stelle vabbè va bene va bene 27700 bene facciamo questo qua dovrebbe essere il boss di quartiere ah mi hanno dato anche i cashback no vabbè la lotteria andiamo a vedere questa lotteria che ci fa vediamo speriamo che siamo a guardare di buono colpiti i blocchi c'è che devo ottenere immagini uguali quella è che abbiamo alzare 7700 7700 monete 100 monete lotterai è una vita no 100 vabbè 1 up fantastico come non funzionano le le macchinette ragazzi non dovete usare le macchinette allora andiamo allora visto qua abbiamo preso tutto facciamoci 10 stellette 10 stelle si ne ho 15 17 va bene sblocchiamo vediamo e conquistiamo e poi andiamo allora mondo 1 aiuto la prima la prima ragazzola che dobbiamo scontro la questione di Bowser la prima ragazzola dobbiamo liberarla qui quella io mi prendo uno screen e lo faccio ok ma guardate che roba fantastico fantastico d'accordo non capisco ah perché ah ok esplodono così attenzione 1 2 3 4 5 6 7 8 1 up pure fantastico ok si vola aspetta che qua si rompe e fin fantastico acqua da girare tutto ok no però aspetta 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 andiamo a vedere cosa abbiamo sbloccato qua sopra ah è a tempo è a tempo è a tempo io non lo so secondo ok poi ragazzi non sentendo l'audio di gioco è un casino no gira e gira gira e gira ci sono ancora si no dai però non fare così no ce l'ho fatta però posso cadere da qui senza spaccarmi di ginocchio sono un gatto tra l'altro quindi direi che è anche il mio mio mestiere non spaccarmi a me sto scivolando insomma ma se io posso fare così no troppo presto troppo presto troppo presto troppo angolato vabbè ho capito va fa così vabbè ragazzi io avevo schiacciato anche ma solo posso fare così fantastico fantastico mi sembra un ottimo risultato ragazzi un ottimo risultato very good ah ma posso oh già la telecamera eh ragazzi prima non ho seguito le indicazioni eh ma non è ok ok ma poi non ci arrivo neanche wow wow qua c'è una stelletta ma non posso già più di così mannaggia va bene va bene allora vado avanti non ci ferma nessuno tra l'altro abbiamo già tre stelle ah adesso ci sarà il mini boss eh si guardo qua sarà Bowser Bowserone nazionale oh la madonna guarda che figo faccio poi la cattura ma guardalo arrabbiatissimo tra l'altro che devo fa? ma mi lancia le pallette davvero io te le lancio chi è? no ci cazzo amaramente ah duemila le ho fatto di danno minchia dai Bowser stick Kim Bowser 4.000 oh la madonna lo sto annichilendo oh oh no questo non mi piace ma questo non mi ho fatto male posso andare più vicino ah ma bene ragazzi tranquillo easy peasy proprio eh Bowser ci si vede è il Bowserone nazionale ciao eh tanti caricose bella Bowser ci si vede oh piatto ricco 76 estreline siamo arrivati ok ah questo finito livello tranquillo pure il tempo ah è vero che c'è vi dimentico che c'è il tempo ragazze ah ma dovrei salvare lei ma io non la salvo adesso ragazzi se non la salvo se ce ne va ma tra l'altro ah ma non mi fa salvare devo prendere la bandiera per salvarla sì penso io sì quindi ho la bandiera ragazzi io ci ho provato eh poi pazienza ah visto visto era scontato però beh oh non si è mai sicuri metti non me lo fa ripetere perché non sono tanta tizia livello completato benissimo sembra un ottimo risultato ragazzi 64.000 e 6 4 0 di punteggio fantastico e ci fuori dalla macchina sì ma la macchina me la posso portare a casa guarda che bello che è benissimo e penso che il primo mondo sia andato fantastico fantastico ragazzi fantastico oh un grande tubo ci ha costruito ho un tubo grande lascio a voi la scelta benissimo vediamo cosa ci troviamo qua abbiamo 95 monete mi sa che è 100 ce ne servono per per giocare alle slot quindi andiamo avanti ragazzi e facciamo anche l'ultimo livello che già che ci siamo che ci cambia noi ok mondo 2 siamo già al mondo 2 così da nulla vediamo qua questa casa di chi è ah un timbro gratis io me lo piglio eh ah ok timbro della della fatina non so come chiamarla fatina la fatina a te allora beh a questo punto ci facciamo anche oh ma chi che si scrivono tutti improvvisamente allora mondo 2 si vola dai facciamo questo come ultimo così vediamo anche le robine dei condorotti qui sono abbastanza svelti questi livelli ok allora vediamo se c'è qualcosa qua sopra eh lo sapevo io ragazzi bisogna sempre stare attenti giochi come Mario le stelline te le buttano da ogni parte del mondo pure le apette madonna il 3d il 3d ok questo pov me lo sfrutto perché aspetta che qualche monetie nascoste aiosa vabbè perfetto mamma mia che precisa che precisa in dei dettagli vediamo se c'è qualcosa qua sopra si si no 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 non provare a fare così Mario mannaggia io in teoria adesso dovrei farcela ah ma perché chiuso ma scusa ma io da qua invece posso salire senza problemi dai ma non fare così marione mannaggia oh però ah forse posso ah qua mi muovo semplicemente più lento ah vabbè ma c'era la stradina vabbè ma dimmelo prima no ZL eh ti ho anticipato gioco mi spiace che devo fa qua si muore ok madonna mia ragazzi ho sempre dei problemi mamma mia non vedo più ragazzi non vedo dove sono ma dai ma non vedevo più niente ma guardate come si fa a morire così colpa mia ragazzi colpa mia sì però vabbè colpa mia però io dovrei anche aspetta aspetta magheggio magheggio ragazzi ci sa oh però a volte va di questo storto che è incredibile dai bravo ok ho un nuovo fondamentale aiuto ok stavolta di questo me ne ciavo magari cheat me ne ciavo cheat 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 aiuto aiuto mamma mia devo magheggiare di nuovo mamma mia ragazzi ho una lotta al magheggio ma perché ci sono i fuochi d'artificio oggi vabbè che sono in live però non siate così felici ma che fate questo nasce perché ragazzi io della telecamera non capisco nulla in questo gioco mamma mia ragazzi ma che inferno totale questo posto vabbè 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 mamma mia allora risalto tutti me ne frego me ne ciavo oh è infernale questo posto però eh ok e niente niente ragazzi niente mamma mia e adesso cosa devo fare ma non è vero mai ok ci riprovo ragazzi devo riprovarci devo prendere per me alla fine di quella roba lì c'è una stella quindi bisogna provarci è solo che se vado indietro con il movimento cioè è proprio un casino basta che perdo il tempo una volta e non salta più quindi prenderò meno monete stavolta però me ne sbatto non c'è non c'è non c'è la stella ma dai c'è tutto soddino quindi per nulla per delle monete si va bene le monete ma a me si me ne frega le monete io me ne vado io me ne vado di qui tranquillamente oh oh c'è poi mi spiace ok qua non si è messo di qualcosa vediamo qua sopra ok guarda qua che infamata guarda te e spi ok madonna mia ragazzi questo è un inferno ve lo dico ah io ve lo dico vediamo se qua c'è qualcosa da vieni buttamelo qui buttalo buttalo bravo 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 ma è troppo è troppo è troppo difficile saltare in questo gioco no però aspetta che uso un magheggio voglio vedere se c'è qualcosa qua sopra che non si sa ecco infatti da che ci arrivi mario 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 ah cioè non c'è nulla qui non è vero mai che succede pazzesco ragazzi sono sono un cubo dorato ok quella è la fine oh capitano todd oh dammi la stella eh la mia stelletta bravo bravo capitano todd ma io continuo a guadagnare soldi qua madonna mia questa cosa è un inferno madonna mia ma si può tanto che ci va a guadagnare sono ricco sono ricco come raulo ah proprio così cioè va bene va bene perfetto yahoo va benissimo ragazzi va benissimo livello completato 2600 200.000 ok perfetto 23 e 3 me ne mancano 4 o 5 mi sa nei precedenti livelli poi la stato sbloccato di bowser cos'è gli amiibo è la tua avventura si ragazzi averci soldi per gli amiibo no in realtà potrei comprarli però bene 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 menù gestione dati ah ok devo salvare questo 005 a mezzanotte 5 vabbè io salvo ragazzi ma non si sa mai che qua mi prendono i dati e li fanno tutto a capo benissimo ragazzi che dire oh mi sembra molto carino come gioco ringrazio ancora nintendo per avercelo mandato e nei prossimi giorni troverete la mia recensione sembra molto promettente comunque super mario 3d world poi c'è ci sarà da vedere anche bowser's fury che anche quello dovrebbe essere un specie di spin off nel gioco quindi molto interessante e niente noi ci vediamo ma è il fury mario beh proprio lui si è il fury mario guardalo qua al posto dello scogliattolo c'è c'è un micio c'è un micio micio macio bene quindi vabbè le news continuano tra l'altro domani sera ragazzi ci sarà il direct alle 11 e ovviamente chi è che scriverà le news cioè quindi state connessi su serial gamer che ci spariamo il direct e vediamo sperando che ci sia qualcosa di buono caspita in questi 6 mesi già non esce di niente nada de nada in generale poi se ci piazzano dei giochi di nintendo sono solo che felice per ora giochi da prendere sono returnal e bio mutant che entrambi ho già connotato quindi saranno miei su ps5 di nintendo speriamo che qualcosa esca purtroppo non pokemon perché il diary di domani nei primi ci mostrerà i primi 6 mesi cosa uscirà i primi 6 mesi tra l'altro da qui a giugno tra l'altro mi aspetto anche cose che usciranno proprio durante il direct quindi seguitelo e niente buonanotte ciao